Grazie a tutti. Rispondo alla tua domanda, chi è al tuo fianco? Al tuo fianco è un'azienda che nasce nel 2013, quindi si avvia verso il decimo anno di attività e al tuo fianco in questi dieci anni si è evoluta in termini di quantità di prodotti, offerti, di servizi offerti, ma anche in termini di qualità degli stessi. Attualmente opera in quattro macroambiti, il primo dei quali è quello legato alle telecomunicazioni e soluzioni IT, ossia progetti che riguardano connettività avanzata, che si portano dietro anche concetti di cyber security, data center, backup in cloud, ma anche servizi legati al noleggio operativo. Quindi tutti quegli apparati che a livello aziendale possono essere utili, dalle stampanti ai pc, agli smartphone, ai tablet. L'altro ambito in cui opera al tuo fianco è quello che noi chiamiamo di evoluzione aziendale, è un ambito che in realtà ha tre sottoambiti sotto di sé, il primo dei quali riguarda i servizi legali e per servizi legali intendiamo servizi legati alla tutela aziendale in ambito GDPR, quindi tutela del dato identificativo, piuttosto che servizi legali in senso lato, quindi consulenza continuativa in ambito legale, piuttosto che stesura e analisi di contratti, piuttosto che ancora recupero crediti o comunque pareri legali in senso lato in ambito aziendale. Il secondo sottoambito riguarda i servizi formativi, noi ci occupiamo di erogare formazione da tanti anni in tre sottoambiti che sono quello umanistico, in particolare legato al miglioramento del clima aziendale e in particolare al miglioramento delle cosiddette soft skills. L'ambito commerciale, quindi tecniche di vendita e l'ambito legato allo sviluppo di strategie sul canale social, in particolare parlando di B2B ci riferiamo soprattutto a Linkedin. Infine proponiamo soluzioni di outsourcing, ossia permettiamo ai nostri clienti di esternalizzare dei servizi trasformando un costo fisso in costo variabile. Servizi che fondamentalmente possono essere effettuati davanti a un monitor, servizi che ad alto valore aggiunto mantengono una competitività economica importante e quindi sono molto apprezzati da parte dei nostri clienti. Il terzo ambito in cui opera al tuo fianco è quello dell'efficienza energetica, quindi ci occupiamo di efficientare i consumi di luce e gas dei nostri clienti, ma anche di proporre progetti legati ad impianti fotovoltaici, sia nel business che nel privato, con le formule dello sconto in fattura, quindi il 50%, piuttosto che anche qui con la formula del noleggio operativo. Il quarto ambito riguarda invece ciò che approfondiremo oggi, ossia lo sviluppo dell'identità digitale aziendale. In particolare qui siamo forti nel creare progetti di miglioramento dell'identità digitale, costruendo portali, piuttosto che pianificando strategie che partono dallo sviluppo del sito, dallo sviluppo dell'e-commerce, ma che si evolvono verso il mondo social, verso la visibilità sul motore di ricerca, ma anche attraverso lo sviluppo di applicazioni che migliorano le dinamiche aziendali. Quindi Luigi, in buona sostanza, possiamo dire che al tuo fianco ottimizza i processi aziendali, andando a migliorare tutto ciò che non è core per il nostro cliente, ma è funzionale al loro core business. Bene, quindi abbiamo sentito gli ambiti di attività, alcuni dei quali di strettissima attualità, pensiamo ad esempio all'efficienza energetica, ma giustamente, dicevi poco fa, ci concentriamo oggi sull'ambito web, social e app. Quando è iniziato l'intervento ho ricordato che eravate presente anche lo scorso anno a questo evento. Lo scorso anno ci hai parlato del sito web come strumento per promuovere l'identità digitale. Possiamo dire allora quali sono oggi le strategie più valide per valorizzare proprio la presenza digitale di un agente immobiliare? Assolutamente. Qua Luigi entro nello specifico dando qualche dato, quindi ripartiamo dall'anno scorso, infatti il titolo della slide è la qualità di ripartire nel presente, per ricordare qualche progetto che a livello qualitativo è stato per noi estremamente importante. I clienti che ci hanno affidato questa tipologia di progetti hanno potuto raccogliere effettivamente un beneficio economico in termini di rientro dell'investimento molto rapido. In particolare abbiamo sviluppato 23 progetti, attualmente ne abbiamo 11 in corso per un totale di 34, sviluppati su 8 aree geografiche differenti e questo ci ha permesso anche di andare a definire due partnership importanti che ribaltiamo sui nostri clienti per offrire loro ulteriori benefici da questo punto di vista. Infine 16 di questi clienti ci hanno affidato anche l'ambito dell'efficientamento, quindi siamo riusciti a far sì che avessero dei benefici economici importanti anche in quest'ulteriore ambito. In particolare venendo all'evento di quest'anno, quello che noi vogliamo raccontare, ripartendo dallo sviluppo del sito che abbiamo raccontato l'anno scorso, vogliamo dare seguito incentrando una nuova strategia su due pilastri fondamentalmente. Il primo che riguarda la produzione e lo sviluppo di contenuti a valore, che è un tema fondamentale, importantissimo. Il secondo pilastro riguarda la comunicazione integrata, ossia strategie che si fondono tra l'online e l'offline in maniera armonica. E quindi possiamo ben dire che ripartire significa calare nel presente strategie di visibilità efficaci, che permettano attraverso l'ideazione e la redazione di contenuti di qualità di offrire effettivamente un valore aggiunto ai nostri clienti, che lo proiettano inevitabilmente ai loro clienti. Noi ci siamo immaginati Luigi un caso studio, quindi un nostro cliente, immaginiamo un'agenzia composta da 10 collaboratori che quotidianamente si muovono e producono 4 appuntamenti al giorno, per un totale di 40 appuntamenti al giorno, che proiettati su un arco temporale settimanale porta a 200 appuntamenti totali a settimana, che è declinati ovviamente su un arco temporale mensile porta a 800 appuntamenti al mese, ossia 800 clienti in target. Ecco, questo è un valore, un asset che i nostri clienti non possono e non vogliono sprecare. Questo asset deve essere nutrito, deve essere continuamente gestito in modo tale che abbia una cassa di risonanza ancora più importante attraverso una strategia sul canale digitale, ed è quello che vogliamo offrire ai nostri clienti. In particolare la nostra proposta l'abbiamo chiamata Digital Real Estate, che, come dicevo prima, è basata su due pilastri, ossia redazione di contenuti a valore e armonizzazione del canale offline con il canale online, sfruttando tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione attualmente, ossia lo sviluppo di WhatsApp business, piuttosto che la generazione di una strategia legata ai QR code o l'invio di mail, una sana strategia di visibilità sui social media, una altrettanto efficace strategia di visibilità sul motore di ricerca, Google in particolare, che è il principale, e una strategia di marketing contenutistica che dia valore e chiuda il cerchio di questa strategia combinata. Allora possiamo dire che c'è ancora spazio oggi per mettersi in evidenza sul web nonostante l'affollamento di contenuti e di proposte? Assolutamente sì, c'è molto spazio e dal nostro punto di vista l'opportunità che oggi i nostri clienti possono cogliere è un'opportunità che diversamente non c'è mai stata negli anni precedenti. Proprio perché lo sviluppo di contenuti a valore non è un'attività banale, ma nel momento in cui viene gestita correttamente porta dei risultati che con strategie differenti non otterresti. Ma quando parlate di social media intendete quindi il profilo della singola agenzia immobiliare oppure andate a curare anche eventualmente i profili degli agenti immobiliari? Sì, nelle nostre proposte è previsto su tre ambiti differenti anche la possibilità di andare ad integrare i profili degli agenti sulla base dell'esigenza del cliente, sulla base della capacità di investimento, della volontà di investimento che il nostro cliente vuole in quel momento effettuare. Una strategia armonica prevede effettivamente attività integrate, assolutamente. Questo può fare la differenza. Questo porta a creare quindi un secondo profilo oppure a migliorare il profilo personale della gente? Assolutamente a migliorare il profilo personale. Quindi ci vogliono anche delle regole da seguire per evitare che magari i contenuti diciamo così di tipo privato vadano a inficiare la qualità poi... Assolutamente sì, ci sono strategie dedicate per mettere in piedi una armonizzazione per andare a sfruttare anche gli asset che nel corso del tempo ogni profilo ha generato. Invece quando parlava di follow up degli appuntamenti tramite canali offline, ma il riferimento in particolare mi sembra di capire Whatsapp e Mail, ci può fare qualche esempio? Immagina di essere un consulente, un professionista del settore immobiliare che incontra quei famosi quattro clienti al giorno. Ecco che quei quattro clienti nel momento in cui escono dal mio ufficio devono essere seguiti e qua arriviamo al concetto di follow up e devono essere nutriti con dei contenuti che diano valore al cliente e quindi il cliente nella testa abbia un presidio della mia agenzia, del mio brand, della mia proposizione molto importante. Quindi nel momento in cui io vado a catturare l'attenzione del mio cliente che esce dalla porta del mio ufficio, della mia agenzia, ecco che allora lo vado ad ingaggiare attraverso Whatsapp, il canale Whatsapp, mandandogli il link dell'annuncio o degli annunci, per esempio, che a cui lui era interessato, piuttosto che mandandogli un QR code o lasciandoglielo a mano, ancora meglio, che rimanda a una pagina del mio sito che può essere l'annuncio, che può essere una guida che parla di come valorizzare la casa nel caso di un cliente che voglia vendere, piuttosto che una guida che parli di cosa porre in essere, cosa osservare rispetto agli aspetti di quella casa che vorrei comprare, quindi quali sono gli eventuali minacce che si potrebbero nascondere dietro determinati spazi, piuttosto che... e quindi vado ad individuare delle aree di interesse che danno valore al mio cliente che mi ritorna poi il suo interesse. Invece per quanto riguarda la parte di content marketing, in che misura può aiutare anche a reclutare altri professionisti? Se ho capito bene perché è quello uno degli obiettivi. Sì, assolutamente, sia a reclutare altri professionisti, sia a individuare abitazioni di valore da mettere sul mercato. Questa è la parte di content marketing. Le strategie possono essere varie. Se noi definiamo una strategia contenutistica che definisca dei contributi di educational, per esempio, di formazione, rispetto a un professionista che voglia cambiare agenzia o voglia avvicinarsi a questo mondo, ecco che allora lui vedrà, attraverso questi contenuti, vedrà in noi un sito di valore in cui andare a formarsi, in cui andare a professionalizzarsi. E questo è fondamentale per dare valore all'agenzia stessa e a crescere la professionalità della stessa. Quindi tirando un po' le file del discorso, possiamo dire quali sono i vostri punti di forza? Per cui anche all'interno di un mercato dell'offerta sempre più affollato vi distinguete da altri operatori? Certo. Ti ringrazio Luigi per la domanda. In particolare tengo a sottolineare questi cinque valori su cui i clienti che si affinano al tuo fianco possono sempre contare. In primis la certezza che il lavoro venga svolto puntualmente, quindi nei tempi prestabiliti e seguendo gli obiettivi che sono stati prima condivisi e poi prefissati. In secondo luogo possiamo garantire altissime competenze di settore. Noi abbiamo creato una divisione verticale dedicata al settore immobiliare perché crediamo che la specializzazione faccia la differenza rispetto a una proposizione generica. In terzo luogo la scalabilità delle soluzioni, cioè la possibilità che diamo ai nostri clienti di evolvere le proprie soluzioni in qualsiasi momento sulla base di evoluzione del mercato, cambiamenti delle strategie aziendali e sulla base di iniziative imprenditoriali che possono cambiare nel corso del tempo. Offriamo anche risorse dedicate, quindi project manager che prendono per mano il nostro cliente e lo portano dall'inizio alla fine del progetto. Infine abbiamo ideato un listino riservato ai clienti che entrano in contatto con noi attraverso il network, attraverso l'evento di sinergie, in modo tale da restituire a loro anche un beneficio economico per la fiducia che ripongono in noi. In particolare, entrando nello specifico, abbiamo pensato a tre differenti proposizioni di questo pacchetto Digital Real Estate. Tutte e tre, tengo a sottolineare, sono chiavi in mano e si basano tutte e tre sulla creazione ed azione di contenuti a valore. In particolare la Star Edition prevede setup business, QR code, articoli blog, newsletter e post, la premium edition, prevede rispetto alla Star Edition la possibilità di attivare Whatsapp business anche per i collaboratori e non solo per l'azienda, di generare 50 QR code e di raddoppiare il numero di articoli postati sul blog al mese e il numero di invio di newsletter mensili. Porta il numero di post da 4 a 6 al mese, le campagne di sponsorizzazione non sono più dedicate solo ed esclusivamente ad un prodotto o servizio ma possiamo dedicarle anche fino a tre prodotti o servizi, generazione di una landing page e l'investimento pubblicitario di budget che andremo a investire sia su Meta, 100 euro in particolare al mese, quindi parliamo di Facebook e di Instagram, sia su Google. Il piano Platinum, che è l'ultimo e il più, diciamo, importante, prevede, a differenza del premium, 10 collaboratori, quindi l'attivazione dei WhatsApp business su 10 collaboratori, una generazione di QR code illimitati, tre articoli blog, tre newsletter al mese e otto post, quindi andiamo a raddoppiare il primo piano, lo Star Edition, sempre una campagna di sponsorizzazione che può vertere su 10 prodotti o servizi, due landing page e il raddoppio del budget investito sia su Meta che su Google. Bene, allora concludendo puoi spiegarci se questa consulenza viene tutta a distanza o c'è anche possibilità di svolgere parte di persone? No, assolutamente, c'è la possibilità sulla base della desiderata del cliente di effettuare una consulenza ibrida, quindi una parte sicuramente viene svolta in video call per ottimizzare anche i tempi, piuttosto che una parte può essere svolta anche in presenza creando un'empatia sicuramente diversa. Grazie mille Luca. Grazie a voi. Grazie. Grazie.